Il video, ripartiamo col video, siamo ripartiti col video perché si è spento il telefono, del solito, guardate questo, guardate questo, guardate questo, guardate questo, guardate questa, guardate quella lì, è ripartito il video, facciamo l'ultimo pezzo e andiamo a casa. Allora, comunità, buona la comunità, adesso provo i corni, è favoloso, si va, è un piacere, la schiena dice grazie, si va, si va, si viaggia, allora sui corni però non ci sono i freni, perciò occhio per strada, occhio perché per strada non va mica bene, andiamo sui corni, si, si, sui corni si viaggia ragazzi, sui corni si viaggia, vedete che i corni non sono sempre una brutta cosa? Arriviamo a casa e andiamo a letto, siamo quasi arrivati ragazzi, tutto un tazzo, tutto dorme, tutto è silenzio, il rosso sta andando via, il cazzo verde, andiamo di qua e di là e andiamo avanti, siamo quasi arrivati, non so come mai si è spento il telefono, mi diceva che era finito il coso, cos'è, la rete giornaliera, qua siamo sempre al risparmio col boss, fa tutte le cose più economiche, perciò qua, si, le trovi più economiche, ma il servizio poi fa ridere quando è troppo economico, ho scoperto una cosa che forse non è una bella idea metterlo così per se si sgancia da solo, la staffa, e perciò dovrò trovare un altro sistema che è qua, con l'ingegno, comunque è bene, questo manubro è veramente interessante, il black snow è il manubrio, siamo sull'armageddon, cari miei, che ammortizza tutte le buche, anche se non hai gli ammortizzatori, ma ha delle belle gomme, imponenti, 26, 2.0, no, 4.0, 26, 4.0, va via, bella liscia, bella fluida, la pedalata non è affannata, non necessita di eccessiva potenza, siamo via tranquilli, siamo arrivati alla reggia, e ci sbattiamo a letto, e domani c'è la prova, ciao ragazzi, al prossimo video, al prossimo video, da Sandro Cane, iscrivetevi, aiutatemi.